benvenuti questo nuovo video un video velocissimo 5 minuti accetto richieste di metafonia come se come partecipare andare sul sito c'è un modulo richieste di contatto rimarrà quel modulo aperto poi sparirà magicamente fino al primo giugno alle ore 18 tutte le richieste che verranno fatte tramite quel modulo di contatto arriveranno tramite mail ne sceglierò solo 4 e non 64 è molto semplice compilate il modulo inserite il nome e cognome vostro il nome e cognome del vostro caro una domanda che dovete fare tutte le richieste che saranno pervenute saranno messe nella ruota il solito sistema e saranno scelte dalla ruota diciamo della fortuna tra virgolette insomma niente non commentate il nome e cognome o altro sotto questo video che sia sul sito che sia sul youtube e sia sulla pagina questo video non verrà condiviso con il gruppo perché il gruppo c'era sperimentazione audio a parte che ho preso 89 nomi insomma dovevano essere semi ma ho visto che comunque ce ne sono 8 9 gli altri altre persone non se ne sono accorte o non frequentano il gruppo ma chiedono le richieste e poi spariscono e ogni tanto saltano fuori non inviate messaggi privati dire ah io ho perso il mio caro eccetera eccetera perché o si è parte del gruppo e si fa la sperimentazione con l'audio vostro e vediamo cosa esce fuori ogni tanto apro un modulo di contatti nel sito e prendo nomi solo dal sito no dalla pagina no messaggi privati eccetera eccetera insomma molto semplice il modulo sul sito www.adamoparanormal.com è aperto fino al primo giugno alle ore 18 poi sparirà prendo quattro nomi mi raccomando nome e cognome vostro nome e cognome del vostro caro e che sia un vostro caro non l'amico dell'amico perché succede anche questo insomma e niente mi raccomando compilate bene il modulo perché se no facciamo i pastrocchi insomma facciamo su un casino che non finisce più state molto attenti e come quando in settimana ho chiesto dire fare l'audio per il gruppo la gente non ha visto neanche il video dopo cinque minuti c'avevo già l'audio e non si fa così perché comunque mi trovo dei video degli audio con la parlantina molto veloce io ho espresso comunque nel video di cercare di avere un tono tranquillo scandire bene le parole perché comunque è difficile che poi i vostri cari riescono a interagire con l'audio insomma e vabbè la gente non vede il video ma vuole la richiesta di contatto insomma bisogna fare molta attenzione a sprecate 10 minuti 15 minuti del vostro tempo per capire bene che cosa dovete fare è come adesso sto sotto i 5 minuti perché la gente forse o non ha tempo non è concentrata o ha altri problemi però se volete un contatto con il vostro caro è il vostro caro non è chissà chi insomma va bene niente allora ribadisco che il modulo sarà aperto fino al primo giugno alle 18 non contattatemi tramite messaggi privati eccetera eccetera perché l'unica soluzione per avere una sessione di metafonia da me è tramite il sito quando è aperto il modulo di richieste perché c'è un altro modulo di richieste e lì c'è scritto che non prendo nessun nome invece nell'altro modulo c'è come si compila il nome e cognome vostro vostro caro e la domanda una domanda che volete porre e insomma a cosa fondamentale non dovete ma cioè non dovete aver avuto nessun tipo di sessione né da me né da altri cioè lasciamo posto a persone che comunque non hanno mai avuto un contatto e se nel caso non ci sono persone nuove che hanno avuto il contatto vi inserisco nella lista per nella ruota insomma per essere estratti nella ruota se invece avete già avuto un contatto io controllo prima di tutto e poi vi tolgo dalla lista non vi metto nella lista che poi sarà scelta nella ruota della fortuna ecco insomma sono stato molto semplice veloce e niente al prossimo video ciao grazie a tutti